E poi il nemico, il male, il principe del male, Nosferatu, Putin, attenzione, manca il gas, di chi è la colpa? Di Putin. La guerra, di chi è la colpa? Di Putin. Due macchine si schiantano sull'autostrada Torino-Milano, di chi è la colpa? Di Putin. Cosa? Ti fa male il piede? Di chi è la colpa? Hai capito? Benissimo, ecco. E quando si parla di Ucraina, mi raccomando, armi, 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 armi. Se qualche testa calda si alza e dice, ma non è che stiamo dando troppe armi? E tu dici, è colpa di Putin, mi fa pure male il piede, e le macchine si schiantano nell'autostrada, lo dico, e ci mancherebbe altro. Trattali così.